io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra e vorrei davvero che fosse già acceso ho un battesimo da ricevere ed è grande la mia angoscia fino a quando non l'avrò ricevuto pensate che io sia venuto a portare pace tra gli uomini no ve l'assicuro non la pace ma la divisione d'ora in poi se in una famiglia ci sono cinque persone si divideranno fino a mettersi tre contro gli altri due due contro gli altri tre il padre contro il figlio e il figlio contro il padre la madre contro la figlia e la figlia contro la madre la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera grazie a tutti